Per il mondo del gossip, questa, cari amici, può essere una notizia molto allarmante perché tutti i fan, tutti coloro che li seguono, hanno saputo che il suo rapporto coniugale sarebbe ormai in crisi. Di chi parliamo? Parliamo di Britney Spears. Infatti il suo matrimonio potrebbe essere finito e sarebbe una sorta di record, tra l'altro se fosse vero, se fosse confermato, dato che si è sposata meno di un anno fa. Ma ci sono degli indizi che sarebbero tra l'altro inequivocabili che stanno facendo preoccupare tutti i fan. Una brutta botta per i suoi ammiratori, anche se la speranza si sa è l'ultimo a morire, e quindi tutto va nella direzione peggiore però e capiamo un attimo quali indizi ci sono. Prima di raccontarvi tutto su Britney Spears e del suo matrimonio a forte rischio, nel mondo dei famosi è arrivata un'altra notizia, ma in questo caso positiva. Gioia enorme per la cantante Rosalia, che si presenterà al suo matrimonio tra non molto anche se non ha ancora comunicato la data. Con le lacrime agli occhi ha quindi mostrato l'anello imperniato di diamanti e ha commentato, oh mio Dio, ho tutto il mascara sciolto. Ti amo, Rosalia si è fidanzata con il quasi coniuge Rao Valeandro, anche lui cantante, circa due anni fa. Il sito whoopsee ha fatto sapere che Britney Spears potrebbe separarsi a breve, quindi il suo matrimonio sarebbe già al capolinea ad appena dieci mesi dal lieto evento. Nel giugno 2022 era convolata a nozze con una festa sfarzosa, alla quale erano stati invitati moltissimi VIP. Tra tutte erano spiccate le presenze della collega Madonna e di Selena Gomez. Innanzitutto lei è stata beccata in vacanza in Messico, senza suo marito e soprattutto senza l'anello indossato al dito. E anche lui ha fatto la stessa cosa. Nemmeno lui, il modello e attore Sam Asgari, è stato visto con il prezioso al dito mentre si trovava negli Stati Uniti e precisamente nella città di Los Angeles. Whoopsee ha comunque riferito che era nei pressi dell'abitazione di Thousand Hawks e entrambi a sbrigare delle commissioni. Già in passato, però, una sua frase aveva allarmato tutti. Ritorno al Messico, prima che mi sposassi. Ero così felice qui, quindi alcuni utenti avevano fatto una considerazione. Infatti dicendo questa cosa potrebbe significare che ora non sarebbe contenta. La cantante è in vacanza con l'amico Cade Hudson, che è anche il suo manager. Brittany e Sam hanno anche dovuto fare i conti con una devastante notizia. Infatti lei ha perso un figlio durante la gravidanza. Ora vedremo se il matrimonio si potrà salvare oppure no. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento, basta cercare Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci. Tanto pago io, che me frega. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.